Lunedì 27 dicembre sarà pubblicato sul BURC l'avviso per l'agevolazione di programmi di spesa di micro e piccole imprese campane per la realizzazione di investimenti che, mediante ristrutturazione, razionalizzazione, ammodernamento di un impianto o di un processo produttivo, consentano un rilevante miglioramento delle prestazioni dell'impresa in termini di posizionamento competitivo. La dotazione finanziaria complessiva del fondo, nell'ambito del quale è emanato l'avviso, è fissata in 200 milioni di euro. In particolare si intende agevolare i seguenti investimenti, digitalizzazione industria 4.0, sicurezza e sostenibilità sociale e ambientale, nuovi modelli organizzativi. Il finanziamento sarà costituito per metà da un contributo a fondo perduto e per metà da un prestito a 6 anni a tasso zero e sarà destinato a programmi di spesa compresi tra i 30.000 e i 150.000 euro. Le domande saranno presentate esclusivamente in via telematica accedendo al link incentivi.sviluppocampagna.it Nel panorama complessivo delle misure per lo sviluppo sostenibile in campo a livello europeo e nazionale, il periodo attuale risulta cruciale per preparare il tessuto produttivo e i professionisti che acquisiscono il ruolo di attori della diffusione dell'innovazione in tutti i cambi, ha dichiarato l'assessore al lavoro e all'attività produttiva Antonio Marchiello. Grazie per la visione!